Oara Borselli è una ex modella e giornalista, molto conosciuta sui social Ma cosa sappiamo ancora di lei? Oara Borselli è un'attrice, conduttrice ed ex modella Lo scorso anno l'abbiamo vista nei salotti televisivi per prendere le parti del suo ex compagno Walter Zenga, al centro della bufera per via del suo rapporto altalenante con il figlio Andrea Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche, Matteo Bocelli, chi è il figlio di Andrea? Età, dove e quando è nato, fidanzata, madre, canzoni, ultima canzone, Instagram chi è Oara Borselli? Biografia Oara Borselli è nata il 9 giugno del 1976 a Viareggio Oggi ha 46 anni. La sua carriera è partita dal mondo della moda per poi proseguire in quello del cinema e della televisione Inoltre, da qualche anno è anche opinionista di diversi programmi televisivi Genitori sappiamo che Oara è cresciuta in una famiglia di commercianti e ha una sorella di nome Erla Suo padre è anche un istruttore di nuoto e le ha trasmesso la passione per questo sport. Marito e figli Oggi Oara è sposata con l'imprenditore Antonello Costignola e dalla loro unione sono nati due figli, Margot, 2009, e Daniel, 2012 Oara Borselli con i suoi figli Oara Borselli con suo marito Fonte Foto, Gossip I tex Walter Zenga Oara Borselli e Walter Zenga sono stati insieme per ben sei anni A oggi ancora non si sa quale sia il reale motivo della loro rottura, ma a giudicare dai recenti sviluppi sono ancora in ottimi rapporti La ex modella ha preso le parti del suo ex compagno nella faida familiare con suo figlio Andrea, lo scorso anno al GFD Che lavoro fa Oara Borselli? Da giovanissima Oara Borselli ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella e nel 1992 ha partecipato a Miss Estate Festival Bar dove si è anche aggiudicata la fascia di Miss Malizia Nel 1993, poi, ha vinto il titolo fotomodella dell'anno e nel 1995 ha avuto ufficialmente il suo debutto nel mondo della televisione con il programma Per favore, strozzate la ciccone Due anni dopo l'abbiamo rivista in tv nella trasmissione Panarea Sempre lo stesso anno, poi, è stata fra le vallette del programma di Paolo Bonolis, Il gatto e la volpe All'inizio degli anni 2000 abbiamo visto la Borselli nel cast di notte serie televisive come Cento vetrine, Provaci ancora Prof 2, Un medico in famiglia e Grandi domani Nel 2005 ha vinto la prima edizione del programma di Millie Carlucci, Ballando con le stelle e nel 2006 ha condotto Famiglia Salem e Show Nel 2008, poi, ha fatto parte del cast della serie televisiva Vita da paparazzo Oara ha dovuto allontanarsi dal mondo dello spettacolo per badare a sua madre che era malata, ma è tornata a tenere compagnia ai suoi fan grazie al programma radiofonico attualmente diverso, su Radio Incontra a Donna Dal 2019 è anche opinionista di diverse trasmissioni fra cui Non è la Rena, Quarta Repubblica e Mattino 5 Laura non abbiamo informazioni circa la laurea di Oara Borselli Partito politico e Salvini La giornalista ha dichiarato a non è l'arena di essere di destra, ma non ha mai specificato il partito a cui fa riferimento Lo scorso anno, Salvini ha twittato una foto insieme alla Borselli scrivendo quanto segue, Twitter, gelato e patatine Di recente un tweet della ex modella ha fatto il giro del web, la donna infatti sosteneva di aver fatto una gavetta molto stressante quando era ancora giovane che, lavorando qualche ora in un bar, veniva retribuita con patatine e gelato Qui, il suo profilo Instagram su Instagram potete trovarla cliccando qui Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao